Da pochi giorni sono iniziati i lavori su Corso Matarazzo a Santa Maria di Castellabate per la posa dei tubi del gas e della fibra ottica. A tal proposito, la consigliera del comune di Castellabate, Caterina Di Biasi, ha inviato una lettera al sindaco Costabile Spinelli e al dirigente dell'area lavori pubblici chiedendo la rimozione dei cavi volanti e a parete di tutti i fabbricati su Corso Matarazzo, di modo da consentire il minor disagio possibile ai cittadini e alle attività presenti. Nel sollecitare il massimo impegno per ottenere in tempi brevi l'ultimazione dei lavori, ha spiegato la consigliera Di Biasi, così da consentire alle attività presenti come ai cittadini il minor disagio possibile, suggerisco all'amministrazione comunale di contattare l'Enel e la Telecom e chiedere la rimozione e la contestuale posa interrata dei cavi volanti e a parete di tutti i fabbricati presenti nel Corso e aggiunge, così da creare una rete di sottoservizi unica e funzionale. La rete a banda ultralarga di Open Fiber consentirà di portare la fibra ottica direttamente nelle case dei cittadini, nelle aziende e nelle sedi della pubblica amministrazione. Il piano di cablaggio prevede la copertura di circa 8.200 unità immobiliari con un investimento di oltre un milione di euro. Verranno così stesi 77 chilometri di fibra ottica e realizzato un punto di accesso alla rete dedicato in maniera esclusiva a Castellabate. Il progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Campania, i comuni interessati e in Fratelle Italia, società in aus del Mise.